E prima di chiudere il nostro notiziario dobbiamo darvi conto di una notizia perché si è spento questa mattina a causa dell'aggravarsi di una patologia pregressa all'ospedale di Chieti, Carmelo Grasso, 76 anni, uno degli ex storici collaboratori di Rete 8, siciliano di nascita ma abruzzese di adozione. Carmelo ha fatto il suo esordio in tv con Tele Abruzzo regionale per poi approdare a Rete 8, dove rimarrà per diversi anni come coordinatore del settore pubblicitario e commerciale. Assieme a Pasquale Tritapepe e al compianto Guido Fusilli con l'agenzia Master 5 è stato tra gli ideatori della trasmissione agricoltura Oggi e ha collaborato anche con la libreria Coop del centro d'Abruzzo dalla quale venivano registrate le puntate della trasmissione di Rete 8, libri che andavano in onda sulla nostra emittente. Gioviale è sempre pronto la battuta Carmelo lascia la moglie Palmira, le figlie Francesca, Oriana e Stefania, le nipotine e il fratello Pino. I funerali si terranno domani alle ore 16 nella chiesa di Canosa Sannita. Da tutto lo staff giornalistico e tecnico di Rete 8, la proprietà e il direttore, il nostro più sentito cordoglio ai familiari di Carmelo che ricordiamo davvero con grande grande affetto.